In questo video ti parlerò della possibilità o meno di venire a fare le vacanze in Albania Adesso siamo a maggio 2022 e negli ultimi due anni è successo un casino con il covid, le restrizioni e tutto il resto Quindi voglio fare chiarezza e farti capire se adesso puoi fare le tue vacanze in Albania In tantissimi mi avete chiesto cosa serve, cosa non serve, mascherine, ti chiarirò tutto in questo video Ti faccio un piccolo spoiler e tutto molto più semplice rispetto agli ultimi due anni Mi raccomando prima di cominciare però iscriviti al canale, lascia un like e ricordati che puoi usare i commenti per farmi le tue domande E chiarire meglio quello che ti sto spiegando oppure chiedermi nuovi video Partiamo dal sito viaggiare sicuri.it che è ufficiale, vedete il ministero degli affari degli esteri Cosa dice questo articolo? Dice chiaramente che dal primo maggio del 2022 potete venire in Albania senza portare nulla Prima cosa serviva? Serviva o il vaccino, quindi il passaporto vaccinale O un tampone eseguito nelle ore prima del viaggio Oppure dovevate spararvi dieci giorni, cinque giorni a seconda del periodo di quarantena qui in Albania Adesso è stato rimosso tutto, quindi come avete capito è libero, potete venire senza alcun problema Questo però, sia chiaro, è valido sino al 31 maggio del 2022 Perché è altresì chiaro da questo articolo che è stata prorogata una precedente normativa insomma che valeva ad aprile Quindi è stata estesa al 31 maggio 2022 Neanche a dire sapete esattamente cosa fare per rimanere aggiornati sul tema Bene ma diamo uno sguardo a Google e vediamo quanti sono i nuovi casi giornalieri di Covid in Albania E se ci sono decessi, così da capire qual è la situazione reale qui Ebbene, come vedete c'è stato un picco questo inverno Che siamo arrivati a 1000-2000 casi al giorno, anche di più Per poi scendere praticamente a 30-40 al giorno Quindi in pratica non c'è Covid qui O comunque è veramente veramente poco l'incidenza insomma di casi giornalieri Se andiamo a selezionare i decessi Vediamo come sono sempre stati pochi anche durante l'inverno Quindi le misure adottate hanno funzionato E adesso siamo praticamente a zero decessi negli ultimi mesi Quindi sostanzialmente non c'è rischio, non c'è pericolo Covid qui in Albania Per quanto riguarda la vita quotidiana, le mascherine eccetera Allora vi dico, negli anni è servita veramente poco la mascherina Soprattutto all'aperto L'aperto è servita per pochissimo tempo nelle fasi più acute della pandemia Al chiuso invece è servita un po' di più Ma adesso ormai non ve la chiedono più neanche al chiuso Vi consiglio di portarne sempre una con voi Comunque perché o all'aeroporto o in alcuni centri commerciali un po' più grandi Soprattutto a Tirana Potrebbero richiedervela Ma nella sostanza non serve a nulla qui Quindi portatevela ma solo per casi eccezionali Per quanto riguarda il resto C'era fino a poche settimane fa un coprifuoco dopo le 23 Che inizialmente vi impediva di stare fuori dopo le 23 Invece successivamente si è modificato in dopo le 23 Non potete sentire la musica a volume alto dopo le 23, dopo le 24 E' cambiata molto la normativa Ebbene adesso potrete godervi la vostra musica a palla al mare Perché hanno rimosso anche questo vincolo Quindi state tranquilli che vi potrete godere le vacanze al 100% Senza preoccuparvi di mascherine o di altre restrizioni Ottimo abbiamo capito che voi potete venire in Albania Sia per le vostre vacanze rilassanti o avventurose Senza bisogno di mascherine o cose particolari Ma potete tornare in Italia poi? Ed eccoci alla nota dolente che in molti negli scorsi anni non hanno considerato L'Albania era nella zona E Quindi una zona ad alto rischio E di conseguenza si poteva venire in Albania dall'Italia Solo per motivi di urgenza Quali ad esempio lavoro o salute Essendo in questa categoria di rischio Per evitare la quarantena bisognava trascorrere sul suolo italico Non più di 120 ore Quindi entro 5 giorni bisognava comunque ritornare nel proprio paese O comunque uscire dall'Italia In più era necessario compilare il DPLF Il Digital Passenger Location Form Cioè un modulo all'interno del quale dovevate indicare Da dove provenivate Dove volevate andare E i motivi del trasferimento Come detto dovevate stare al massimo 120 ore in Italia Se no scattava la quarantena Come leggete in questo articolo dell'ambasciata d'Italia a Tirana È cambiato tutto anche qui Quindi non serve più il modulo DPLF Il Digital Passenger Location Form Insomma che era a livello europeo Insomma è stato istituito a livello europeo Ma come detto prima serve comunque una delle seguenti cose Ebbene vi serve o il certificato di vaccinazione anti-covid O un certificato di guarigione avvenuta Quindi entro 6 mesi dal rientro Quindi dovete essere guariti entro 6 mesi O un test molecolare Quello il PCR insomma Negativo effettuato non più di 72 ore dall'ingresso in Italia O un test antigienico Io lo chiamo quello rapido per capirci Effettuato non più di 48 ore dall'ingresso in Italia Oppure altra certificazione equipollente Insomma che viene riconosciuta come equivalente o meno dall'Italia Informatevi sempre se non avete uno dei documenti di qui sopra Perché se no scattano 5 giorni di quarantena Come vedete qui c'è ancora la quarantena Qualora non disponiate di uno di questi documenti Che vi sono stati richiesti Come detto il modulo non serve più Faceva perdere molto tempo Quindi è un vantaggio non da poco E quello che vi posso anche dire Che è molto importante Ma trovate l'articolo in descrizione I bambini sotto i 6 anni Non hanno bisogno di test Quindi possono entrare senza problemi in Italia Siccome so che molti di voi si staranno già chiedendo Ma quanto costa il tampone in Albania E quanto ci vuole a fare il tampone Bene Per fare il tampone PCR Quello molecolare Diciamo il più complesso Ci vogliono circa 4-5 ore Nei laboratori quelli giusti E ci vogliono 30-35 euro circa Stanno scendendo un po' i prezzi A meno che in estate insomma li pompino un po' Ma più o meno quei 30 euro 4 ore avete risolto Per quanto riguarda invece quello rapido Ci vuole un 15 euro E il tempo che ci vuole Quindi 15-20 minuti insomma A proposito ti lascio qui sopra il link Delle mie vacanze del 2021 Per vedere come ho pianificato le vacanze Dove sono andato Quanto mi è costato il tutto Se avete bisogno di nuovi video aggiornati Per sapere bene dove andare quest'anno Come sempre lasciatemi un commento Spero che questo video abbia chiarito tutti i tuoi dubbi Ti ricordo però che nei commenti qui sotto Puoi farmi le tue domande Ovviamente però dopo esserti iscritto E dopo avermi lasciato un like Perché mi raccomando Mi aiuti veramente tanto Ti lascio inoltre con un'ultima conferma Qui in Albania non serve green pass Non serve tampone Non serve nulla ragazzi Non viene utilizzata neanche la mascherina Diciamo Portatela giusto per sicurezza Come hai detto per qualche locale chiuso Ma veramente serve a poco e niente L'unica cosa che però vi consiglio di fare È un'assicurazione sanitaria Perché quella non fa mai male Ovunque viaggiate nel mondo Non solo in Albania Ultima chicca Prenotate subito i voli Perché poi d'estate i prezzi esplodono E se volete sapere quale compagnie usare Come cambiare il denaro Eccetera eccetera Seguitemi nei prossimi video Sous-titrage Société Radio-Canada